Buongiorno, sono Edgardo Bonazzi, pranico, vorrei parlarvi dell'alimentazione pranica, della mia esperienza sull'alimentazione pranica. Vorrei parlarvi dell'alimentazione pranica quale paradigma perduto e come per incanto quando ho scoperto praticamente nel parlare del paradigma perduto ho ritrovato in un testo taoista in un volume scritto sulla seta con scritto abbandonare il cibo e vivere di ci spiega una pratica definita indurre, promuovere e condurre il cibo, scritto nel 206 a.C. Questa conoscenza è una memoria che va a ritroso di millenni, di milioni di anni. Ci porta alla scoperta di popolazioni, di una popolazione spiritualmente pura, evoluta. La terza razza madre sono i Lemuri, una razza di ermafroditi che alla Blavansky, madre della teosofia, era stata rivelata dai Manatman che gli avrebbero permesso di visionare il libro di Zian, un libro di saggezza antica, di conoscenze occulte, e gli ha permesso di esplorare questa popolazione che viveva pacificamente milioni di anni fa, addirittura forse 150 milioni di anni fa. Una popolazione che era eterea, non era solida come siamo soli di noi oggi, la Terra era più eterea. Lo stesso Rudolf Stehner parla di Lemuriani che avevano un corpo plasmabile, che potevano modificare il proprio corpo. Erano chiaroveggenti e avevano respirazione e nutrimento, erano congiunti in un unico organo. respirazione e nutrimento. Si nutrivano di fotosintesi. Questa popolazione si nutriva di Prana. è l'anello mancante che ci porta a scoprire la capacità di alimentarsi di Prana, la capacità genetica di alimentarsi di Prana. Queste popolazioni armafrodite erano ancora prima della separazione dei sessi. In un secondo tempo lentamente si trasformano e si produce l'apparato digestivo. ci permette e il mondo si sta solidificando, noi ci stiamo solidificando, ci stiamo evolvendo in una realtà più materiale, più densa. Ci rende ibridi perché l'apparato digerente ci permette di alimentarci di cibo solido. Questa alimentazione ci rende indubbiamente con un'energia molto potente. Ci porta ad essere più possessivi, aggressivi, violenti. Ci porta alle guerre, al dominio, alla schiavitù. Questo essere ibridi lentamente ci ha allontanato dalla capacità di alimentarci di Prana. In questo testo del 206 avanti Cristo ci dà l'immagine di una memoria, l'immagine di un qualche cosa che ci manteneva legati a una spiritualità antica, a una concezione metafisica della vita, che noi oggi stiamo cercando di riprodurre, ritornare alla nostra capacità di alimentarci di Prana, di ci. Io in questa pratica pranica l'ho iniziata nel 2017. Il mio accompagnatore era Nicolas. Eravamo una quarantina di persone in Francia. Io in questo percorso, quando l'ho praticato, è stato un percorso facile, leggero. Quasi non mi rendevo conto di restare senza cibo solido da 21 giorni. È stato un percorso veramente molto bello, molto produttivo, indubbiamente sotto certi aspetti duro, perché affrontavi con volontà il desiderio di alimentarti con l'energia universale. Dopo i 21 giorni, quando sono scaduti, sono rimasto ancora 60-70 giorni in totale senza mangiare, alimentandosi di Prana. Io bevevo solo acqua in quel periodo. Fu veramente un'esperienza meravigliosa, un'esperienza che mi ha dato tantissimo. Mi ha permesso di sentire, essere consapevole che si può fare a meno del cibo, del cibo solido, del cibo materiale. Ci si può alimentare con i Prana, con i C. Le nostre cellule si aprono e si nutrono. Si nutrono sia con il respiro e sia con la fotosintesi. E' qualcosa di veramente meraviglioso. Questo mi permette di essere libero. Io oggi mangio ogni 4, 5, 6 giorni. Mi sento effettivamente molto libero. Posso dire di no al cibo come posso dire di sì al cibo. Non mi permette proprio... Sei libero. Libero completamente davanti al cibo. Ovviamente questo mi permette di avere la consapevolezza che è unicamente la capacità di alimentarsi in un modo diverso da quello di alimentarsi con il cibo solido. Ovviamente quando tu fai questo percorso non divieni un illuminato. Non è che sei superiore agli altri esseri. No, assolutamente. È un essere normale. Che attraverso la volontà, attraverso la capacità di osservare il mondo, vedere le porte che si aprono di fronte a questa capacità di alimentarsi di Prana, e orientarsi, se si vuole, verso l'illuminazione, verso una maggiore consapevolezza, verso la capacità di sentirsi nella totalità della coscienza cosmica. Non siamo, non credo, non li vedo, i pranici illuminati. Ci sono illuminati, tipo Yogananda, che mangiava. Quindi la storia dell'illuminazione o di aumentare la nostra capacità di consapevolezza è determinata dalla nostra volontà, volontà di potenza. Ma la nostra volontà ci permette di andare avanti, di lottare e di appropriarsi delle capacità di espandere il nostro essere. Questo è quello che io sento come alimentazione pranica. e questo mi fa sentire allineato a queste popolazioni pacifiche, straordinarie, che erano le popolazioni lemuri. Ovviamente nel passaggio dell'uomo dall'alimentazione pranica assoluta a divenire ibrido e lentamente abbandonare e dimenticare la capacità di alimentarsi di prana ci ha portato a una volontà di potenza che ha portato a guerre, a violenze, a schiavitù. Il cibo solido ci porta all'aggressività, ci porta allo snaturare quello che è il nostro essere naturale. Questo è il pensiero che mi porta lontano nel tempo e mi porta a ricontinuare e a ripropormi quale pranico. dal 2017 sono sempre stato pranico, a parte un piccolo periodo che mi è mancato, perché ho avuto un piccolo disturbo di salute, e quindi ho perso per un attimo la capacità di alimentare, non tanto la capacità, ma ho sentito la necessità di nutrirmi a volte di più con il cibo solido, perché mi sentivo estremamente debole. Poi parleremo anche di questa cosa. Come ho detto, nel mio viaggio pranico e nelle mie conferenze a Cocore, al Festival di Cocore, ho provato un'esperienza che mi ha portato una gioia immensa e ve la voglio comunicare. è stato nel 2018, l'ultimo giorno del Festival Pranico. ho formato un gruppo di uomini e donne che facevano parte del Festival, mi ho guidato in un allenamento molto strong, duro, di pugilato, ed è stato meraviglioso. Finito, mi sono seduto vicino al palco dove si svolgevano le conferenze. mi sentivo leggero, un benessere enorme. Nel momento in cui riapro gli occhi, osservo che tutto attorno a me si illuminava e vedevo il corpo eterico di ogni cosa, delle piante, dei fiori, degli insetti, le farfalle, il selciato, l'erba, gli esseri umani. Vi era una luce che li attraversava e ci attraversava immensa. Mi è durato circa un quarto d'ora questa visione, questo sentire, ed era meravigliosa. ad ognuno di noi passava dal nostro corpo dei fili sottilissimi di luce che penetravano nelle piante, negli insetti, nel selciato, e questo mi fece comprendere che noi, che io, facevo parte del tutto. ero tutt'uno con la natura stessa, con tutti gli altri esseri che mi circondavano. Non vi era più un'esperienza soggettiva che non diveniva collettiva e penetrasse nella mia coscienza il sapere dell'altro essere. Il sentire la forza, l'amore, la gioia di ogni forma di vita che ti circonda. gli alberi, gli insetti stessi, gli uomini. È stata un'esperienza che mi ha fatto comprendere totalmente che noi siamo tutt'uno, una coscienza unica. e questo è stato un momento meraviglioso per me, veramente meraviglioso. Indubbiamente io penso anche che non vi siano dei bacchette magiche che trasformano le vibrazioni della Terra e ci fanno evolvere. No. Io sono più che convinto che volviamo singolarmente a seguito della nostra forza e volontà di potenza. Altrimenti viviamo una vita normale. Un'altra cosa che mi piace, che mi porta a un mio sogno, l'immaginare come il potere e la forza dell'alimentazione pranica può trasformare il mondo. meraviglioso, no? Trasformare il mondo dal mio punto di vista lo si può unicamente se noi esseri autonomi e si impegnano a trasformare le città in comunità, in comunità libere, libere da qualsiasi forma di schiavitù, in comunità autogestite, autogestite in economia, in cultura, comunità che ci permettono di trasformare veramente in forma pacifica quello che è essere pranici. quindi trasformare le comunità in qualche cosa di creare degli spazi territoriali liberi, dove non esiste più nazionalismo, razza, diversità, sfruttamento, nulla. vi siamo noi che in modo libero collaboriamo e trasformiamo lentamente questa civiltà in una civiltà più colma d'amore, più serena, una civiltà che ci permette di realizzare totalmente noi stessi, dove non vi è più un uomo che sfrutta l'altro uomo. questo è un sogno, è un utopia, però se noi miriamo l'utopia ci si avvicina e questo è quello che io sento e penso che ci può portare alla possibilità di creare questo mondo privo di confini, privo di nazionalismi, privo di razzismo, portandoci un'infinita gioia. volevo parlare per un attimo, come vi ho accennato, della mia situazione, diciamo così, di malessere, quando ho sospeso per un periodo di essere totalmente pranico. mi è accaduto un fatto il 31 ottobre del 19. ero nel letto, all'improvviso non riesco più a muovermi, non riesco più a parlare, riuscito solo a battere con la mia mano e la mia gamba. mia moglie si è svegliata, mi ha fatto portare all'ospedale, io ero lucidissimo, vedevo tutto, capivo tutto, sentivo tutto, ma non potevo né parlare né muovermi. ho sentito una serenità infinita dentro di me, non avevo né paura di morire né niente, ero solo stupito di quello che mi stava accadendo, cercavo di comprendere. ho desiderato di andarmene, dire non posso restare così. ho avuto vicino mio figlio che mi ha dato una forza molto intensa. nel giro di quattro giorni in centro neurologico, perché era stato una schemia, sono guarito, mi sono ripreso completamente, mi potevo muovere completamente, nessun difetto, niente, ho ripreso a parlare. ho avuto un'altra piccola crisi, nel giro di dieci giorni sono uscito, immediatamente ho ripreso a mangiare un giorno se un giorno no, e lentamente sono ritornato a divenire pranico. vi dico questo perché mi ha accompagnato un senso di serenità nei confronti della morte. una serenità che mi fa sentire ancora in questo momento che noi siamo oltre questa vita. lo sentivo, lo sapevo. io vi ringrazio tutti. namaste